Buongiorno, grazie, e l'altra è un po' di resto, grazie mille. Allora, diciamo, non è diverso solo, non è entrato a solo perché i tre giorni sono amici, quindi che sono, dobbiamo fare tanta economia e hanno deciso di risparmiare e non hanno preso neanche una presenza principale stasera. Ci sono solo i due, se lo prende così, se no, insomma, non so come possiamo farlo anche così, sono sicuro, sono sicurissima, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, sì, buonasera anche da parte di Lucina di Stefano. Questa sera più alta domani, eh? E' il tuo problema, eh? E' un mio, a me, un po', il raggetto Ma hai aperto il microfono, io te l'avevo pensato aperto. Io l'ho allocato. L'ho allocato, noi vogliamo notarvi che sicuramente te lo metterà al posto. No, 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 lo sentiamo tutti, te lo metterò. Allora, buonasera a Piazza Tavolano, non lo sanno, eh? Lucina, hai visto tanta gente questa sera? Sì, io conosco tutti. Io ho un piccolo papà, te ne riconosco. E' una batteria, Oscar, fammeli portare i cari. Vai! Se lo volete, fa un po' E' una batteria, Oscar, fammeli portare i cari.